ti prego misteri aiuta mi sono disperato potresti dirmi dove si trova il mio semino è sparito è corta sai che quel ghiotto da merino non è ghiotto quello che si vede è un altro che non so e vedi eccoli trichi è no no lì non l'ho fatto lì non l'ho stato zitto perché non ho scritto trichi però ok ti prego misteri aiuta mi sono disperato dovresti ho sbagliato ok ti prego misteri aiuta mi sono disperato potresti dirmi dove si trova il mio semino è sparito l'ho tenuto stretto fra le mie zampine per tutta la notte come faccio sempre però stamattina era sparito per favore dimmi dove si trova ti prego ti prego ti prego possiamo rifare l'ultima sì ma ero lungo su sparito va bene no è l'ultima che dovresti velocizzarla se ce la fai ti prego ti prego ti prego si può tutto anche la prima parte ok potresti dirmi dove si trova il mio semino è sparito l'ho tenuto stretto fra le mie zampine per tutta la notte come faccio sempre ma stamattina era sparito ma potresti dirmi dove si trova il mio semino è sparito l'ho tenuto stretto fra le mie zampine tutta la notte come faccio sempre ma stamattina era sparito per favore dimmi dove si trova ti prego ti prego ti prego bene andiamo al caldo bene andiamo al caldo